Per me l'inno di Mameli ricorda la patria. L'inno di Mameli, il ricordo più bello sono i campionati mondiali dell'82. E da allora mi dispiace molto che sia diventato in certe occasioni una cosa discriminatoria venga usato in manifestazioni non sempre dove l'Italia accoglie ma respinge. Il significato è quello di riconoscersi perché è la musica che accompagna il simbolo del nostro paese insieme con la bandiera ci fa identificare, quindi è sentirsi parte di una patria, di una comunità. Secondo me è stato scritto sicuramente con un significato al tempo che però adesso non è così sentito anche perché metà della popolazione italiana manca so come sia per intero l'inno di Mameli. Per me l'inno d'Italia porta alla sensazione di unione, fratellanza, qualcosa che porta al cuore di qualcuno che l'Italia è una nazione unita. Per me significa vivere un'emozione musicale quindi molto intensa e vivere attraverso questa emozione l'identità di un paese e di un popolo. Essendo straniera non mi è mai interessato particolarmente questo argomento quindi non lo saprei dire. Sentire l'inno praticamente con i suoni, con i suoni dell'arte musicale è quello che è per la vista la bandiera. E' il simbolo musicale, non a caso non vi è un paese che non abbia un inno oltre che una bandiera. L'importanza della musica è fondamentale nel portare quelle che sono le nostre emozioni e quindi anche l'emozione dei simboli del paese. Per me l'inno italiano, sentire l'inno italiano è un sinonimo di patria, di famiglia comunque, dove sono cresciuto quindi è un sinonimo di famiglia. Grazie.